Tutto il mondo si è attrezzato a farla e quindi anche l'Italia deve imparare, se non pochi centri in tutti, a fare questo, ma Napoli è stata ricettiva per questo e quindi vanno ringraziati. Perché è fondamentale la base? Fondamentale perché ci dà le prime indicazioni e sulle base delle prime indicazioni possiamo mirare l'esame autotico e avere certezze immediate, quindi già stamani avremo delle certezze, qual è l'entrata, qual è l'uscita, la distanza di sparo, senza attacco, tutto ciò è più difficile. Ci sono percorsi metodologici che la medicina legale ha imparato e dobbiamo seguirli, si cercheranno i residui sulla cute del ragazzino, si cercherà tutto, verrà fatto un'indagine, il perito settore garantisce grande affidabilità, è una persona molto seria e noi ci affideremo e collaboreremo in maniera fattiva. Le indagini in mano ai carabinieri rappresentano un problema? Le indagini in mano ai carabinieri, non per i carabinieri stessi, ma c'è una giurisprudenza della Corte Europea dei diritti del mondo.